Il consigliere comunale di Forza Italia, Calogero Adornetto, interviene sulle iniziative intraprese dall'amministrazione riguardo le ville comunali. Da un lato per congratularsi con l'intento di videosorvegliare gli spazi verdi e così di agire contro chi compie azioni vandaliche, richieste avanzate nella scorsa legislatura dal Consiglio Comunale convocato dalla Commissione Ambiente, dall'altro per chiedere con un'interpellanza di intraprendere azioni legali su alcune precedenti gestioni dei beni pubblici. Dotare le aree dedicate a verde di telecamere e utilizzare un pugno duro contro chi vandalizza, chiaramente la cosa pubblica e revocare la convenzione tra Comune e Assogene erano le richieste dell'ultimo Consiglio Comunale convocato per merito della Commissione Ambiente da me preseduta e con il Vicepresidente dottoressa Laina Mondagnino. Perché dopo un lungo lavoro la Commissione si era reso conto che chiaramente il verde cittadino peccava in molti aspetti e quindi avevamo chiesto all'amministrazione di poter ripristinare e mettere in atto una manutenzione di tipo ordinaria e straordinaria per alcuni aspetti. Abbiamo preso atto che chiaramente l'assessore Falci ha messo in atto quello che era la nostra direttiva perché con l'aiuto dei direttenti si è recato presso le ville rendendosi conto che chiaramente il verde pecca in molti aspetti se non in tutti. Quindi in quel Consiglio noi ci eravamo dedicati soprattutto in due parti. La Villa Medeo che era stata chiaramente oggetto di un attacco andalico da parte di ragazzi che sono stati arrestati in guando colti in Vraganza. E quindi chiedevamo all'amministrazione di costituisti di parte civile per recuperare le somme o quando meno fare intervenire l'assicurazione, cosa che non è stata fatta. Dall'altro canto ci eravamo soffermati a un aspetto importante che era quello di Villa Monica in guando non avevamo potuto fare un sopralluogo all'interno da diversi mesi perché la villa risultava chiusa. Avevamo preso delle testimonianze da parte di persone che ci riferivano a delle cose molto strane ovvero quando la villa rimaneva aperta all'interno risultavano essere presenti aree di serie A e aree di serie B ovvero aree dedicate ai bambini normali e aree dedicate a bambini che avevano pagato la quota associativa. Tra l'altro all'interno veniva aspettata un'attività di tipo commerciale, cosa che non era prevista nella convenzione e altre tipologie di questioni che non abbiamo trattato ma che riteniamo opportuno trattare in separata sede. Oggi apprendiamo che quasi l'assessore si complimente e dice grazie all'assogene per aver restituito un'area che è stata sottratta dall'utilizzo dei cittadini. Invece chiediamo all'assessore che se ci sono le condizioni devono essere messe in atto tutte quelle, devono essere messe in atto chiaramente opportuni provvedimenti e se è il caso multare l'associazione che ha mal gestito uno spazio pubblico.